Bentornati su MyFootballJersey, andiamo in NBA per vedere una maglia strepitosa. Questa è la maglia City Edition dei Pelicans in edizione Swingman. Grazie per la visione! Wow! È una delle maglie più belle! Nella mia classifica questa prende 5 stelle, sicuramente una maglia che dovete avere con dei colori bellissimi che adesso che arriva l'estate vi faranno fare una bellissima figura quando andrete al mare. Qui in alto vedete il costo. Se la maglia è eccezionale, il costo è strepitoso e su questo non ci piove. Vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre bellissime maglie dell'NBA che vi attendono. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, io spero possiate regalarci un grande like, ma soprattutto iscrivervi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media. Ciao! Ciao!